Musica Potrebbe essere stato una stufa di fortuna la causa dell'incendio scoppiato questa mattina in una baraccopole di Stornarea che ha ucciso due fratellini bulgari, un bambino di 4 anni e la sorellina di 2. La tragedia è avvenuta intorno alle 9.30 in un campo dove vivono un migliaio di cittadini bulgari che si trovano nelle campagne di Stornara, a circa un chilometro dal cimitero cittadino. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il padre delle vittime, un bulgaro di 27 anni, era nelle campagne al lavoro, mentre la donna, anche la bulgara di 21 anni, si era allontanata per andare in bagno quando è scoppiato l'incendio. I due fratellini stavano dormendo sul letto, per loro non c'è stata alcuna possibilità. I vigili del fuoco, giunti poco dopo, non hanno potuto far nulla per i due piccoli. Una tragedia all'ennesima che si consuma in una baraccopoli del Foggiano. Sul posto, oltre ai vertici dei carabinieri della polizia, è giunto anche il prefetto di Foggia, Carmine Esposito. I genitoni sono stati portati in caserma per essere ascoltati dai carabinieri. Ancora ad accertare con esattezza la causa del rogo mortale, anche se, come detto, non si esclude che le fiamme possono essersi propagate proprio da una stufa rudimentale accesa, ossia un bidone di ferro con dentro della legna data alle fiamme. La baraccopoli è una piccola città con alloggi realizzati in legno, cartone e altro materiale di fortuna. Un ghetto pieno di rifiuti di ogni genere attraversato anche da figli elettrici, molto probabilmente usati per qualche allaccio abusivo alla corrente elettrica. Un'altra maglia nera, l'ennesima, questa volta ottenuta nel campo della raccolta differenziata, dove Foggia si attesta all'ultimo posto in Puglia. Una fotografia scattata dal rapporto Ecomafia 2021 di Legambiente, presentato nell'aula Cipriani del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Foggia. Impietosi i numeri raccontati dall'indagine, con le percentuali di raccolta differenziata di Foggia ferme al 25% nel 2019. Un dato che diventa peggiore soltanto nell'Aro Foggia 2, di cui fanno parte i comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Ortanova, Stornare e Stornarella, dove si arriva appena al 6%. Ovviamente si tratta di dati che preoccupano, giacché il settore dei rifiuti è uno di quelli sui quali si concentrano maggiormente gli interessi della criminalità organizzata. Serve dunque un cambio di passo, innanzitutto attraverso un piano, che riesca a cogliere gli obiettivi della programmazione regionale, in cui il 2025 rappresenta la timeline per il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata in Puglia e in ogni Aro. Un obiettivo ambizioso, che evidentemente passa per una pianificazione dell'impiantistica, che riduca il conferimento in discarica. L'orizzonte fissato dal piano approvato recentemente dal Consiglio regionale, prevede, come raccontato nei giorni scorsi, la chiusura nel 2025 dell'impianto di biostabilizzazione di passo breccioso, con la progressiva dismissione degli impianti che accolgono i rifiuti indifferenziati. Le tappe di questo percorso parlano del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata al 2022 e del 70% al 2025. Traguardi che, secondo l'assessore regionale all'ambiente, Anna Maria Maraschio, non è impossibile tagliare, anche se il terreno da recuperare sembra essere troppo e la distanza difficile da colmare nell'asso di tempo fissato dalla regione. Foggia, ad esempio, dovrebbe fare un balzo in avanti di quasi 50 punti percentuali in soli tre anni. Senza dubbio la partita si gioca sul terreno del recupero di quella coscienza civica, in larghissima parte assente, come ha sottolineato la commissaria Marilisa Magno, ma anche su quello della costruzione di un piano comunale realmente efficace, in grado di coniugare efficienza e severità nella punizione di chi trasgredisce le regole. Il progetto approvato dalla Commissione straordinaria per il posizionamento di 42 telecamere, di cui 16 lettori di targa dislocate in 23 aree di Foggia, la cui realizzazione è prevista entro marzo 2023, sarà sicuramente un aiuto importante. I numeri però dicono che per rispettare gli obiettivi della regione bisognerà correre, e anche molto in fretta. Eccellenza, quanto è importante aggredire il patrimonio della criminalità? Direi fondamentale, perché rientra tra le strategie fondamentali, più importanti, per combattere la criminalità organizzata, anche perché la criminalità ha fatto dei passi in avanti attraverso proprio le cointeressenze e gli interessi nell'economia. Quindi il fattore economico in generale, ma direi anche i beni, la conquista di beni, da parte della criminalità, devono essere combattuti in maniera adeguata, decisa, determinata da parte di tutte le istituzioni che devono fare rete in questa battaglia e sentirsi uniti da un comune intento, essere vicini alle collettività. Questo è un modo per essere vicini alla collettività. Tuttavia le aziende, anche quelle confiscate, c'è la possibilità che vengano in un certo senso recuperate e quindi sotto una gestione controllata si può tentare di renderle operative, di renderle economicamente utili, soprattutto per mantenere i livelli occupazionali, per non arrecare un danno eccessivamente forte all'economia del nostro paese. Il territorio nostro, la nostra provincia, ha degli esempi importanti di beni confiscati alla mafia. A volte però la burocrazia rallenta un po' questo procedimento. Penso che il progetto del quale questo incontro, questo convegno presso la Camera di Commercio vuole parlare proprio nel tentativo di rendere maggiormente agevole la gestione dei beni confiscati e quindi con criteri di trasparenza, di lealtà nei confronti delle istituzioni e soprattutto nella speranza che, ripeto, le attività economiche possono essere garantite senza che si sottragga alla collettività servizi o beni particolari che possono invece essere utili ai nostri concittadini. 24 anni di reclusione per Marco Carella, il foggiano di 41 anni, ritenuto l'autore dell'omicidio di Luigi Antonio De Rocco, 32 anni di Casarano, in provincia di Lecce, assassinato per sbaglio da un colpo di fucile il 28 giugno del 2018 alla periferia di Foggia. La sentenza è stata emessa dai giugi della Corte d'Assise d'Appello di Bari, confermando così la condanna di primo grado e accoglie al mio impieno la richiesta del PM. De Rocco hanno accertato l'inquirente stato ucciso per sbaglio con una fucilata alla schiena, mentre era in auto con due conoscenti in via Forcella, alla periferia del capoluogo Dauno. La vittima era in auto appunto con Bruno Carella, fratello del killer, e il figlio. Secondo quando accertato agli investigatori il vero obiettivo dell'agguato era proprio Bruno Carella, già scampato miracolosamente ad un agguato avvenuto il 4 ottobre del 2017, sempre in via Forcella. L'assassino, hanno ricostruito gli inquirenti, voleva uccidere il fratello per rancori familiari legati a questioni ereditarie. Quella sera del 28 giugno del 2018 De Rocco era giunto a Foggia perché doveva fare dei lavori di carpenteria a casa di Bruno Carella e si era fermato in auto proprio con lui e il figlio per concordare il tutto. Bruno Carella era seduto sul lato passeggero, suo figlio al posto di guida, Antonio De Rocco sul sedile posteriore. Intorno alle 10 di sera in via Forcella è giunto un'altra automobile dalla quale è stato sparato un colpo di fucile che ha raggiunto De Rocco alla schiena. I pallini hanno trappassato il cuore uccidendo il 32enne. Gli uomini del 118, intervenuti poco dopo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'eccese. Il 24 luglio del 2020 Marco Carella era stato condannato a 24 anni in reclusione dai giudici della Corte d'Assisia di Foggia, cogliendo in pieno la richiesta del pubblico ministero. Ridurre il traffico veicolare privato, individuando misure utili ad orientare gli spostamenti casa lavoro verso forme di mobilità sostenibile, sulla base dell'analisi degli spostamenti dei dipendenti pubblici e privati, delle loro esigenze e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio. Sono gli obiettivi del piano degli spostamenti casa lavoro del Comune di Foggia, approvato dalla Commissione straordinaria, in coerenza con il contenuto e le finalità del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, licenziato dal Consiglio Comunale nel settembre del 2018. Il piano è stato elaborato dalla società Movision, nell'ambito del progetto finanziato dal Fondo per la Mobilità Sostenibile, il programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'area nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico. La finalità è quella di tradurre in realtà il decreto interministeriale dell'agosto scorso, con il quale sono state adottate le linee guida per la redazione del piano di mobilità per gli spostamenti casa lavoro dei lavoratori impiegati da datori di lavoro pubblici e privati che superano i 100 dipendenti. L'ente di Palazzo di Città punta dunque a mettere in campo e a sistema investimenti comunali, regionali e nazionali per riconvertire la mobilità verso modelli maggiormente sostenibili, incentivando l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso personale, finanziando la realizzazione di nuove corsie preferenziali per il trasporto pubblico, corsie ciclabili e ciclopedonali e rafforzando gli interventi che scoraggiano l'uso dell'auto privata a favore di un piano complessivo per la mobilità ciclabile e pedonale. Il piano muove da una dettagliata analisi dell'offerta e della domanda di trasporto, suggerendo strategie per incentivare gli spostamenti su due ruote, anche con l'adozione di sistemi di bike sharing, per la stipula di convenzioni con aziende che offrono servizi di mobilità condivisa di mezzi a modalità dolce, la possibilità di offrire dei contributi per incoraggiare l'uso del trasporto pubblico locale, anche con un sistema di scontistica sugli abbonamenti ATAF, l'adozione del carpooling, ossia l'uso condiviso di automobili, tra un gruppo di persone allo scopo di ridurre i costi di spostamento. Una novità importante per la quale il piano individua anche una griglia di costi per ciascuna tipologia di intervento. Una scommessa ambiziosa ma difficile, che però, come ogni idea innovativa a Foggia, dovrà fare i conti con la situazione della città, dalla condizione delle piste ciclabili, che con la pioggia diventano veri e propri fiumi, all'affidabilità e alla puntualità del servizio offerto dall'ATAF, fino ad un piano di viabilità che renda possibile per davvero decongestionare il traffico. Tutti i problemi da affrontare e risolvere preliminarmente, per non lasciare questa rivoluzione semplicemente un'intenzione senza risultati. Una serata dedicata a Franco Di Giuseppe, una serata dedicata ad un uomo che ha speso la sua vita per la politica e per la propria terra. Un'occasione per ricordare un esponente politico che ha fatto la storia della Capitanata. Raffaele Fitto, ieri a Sansevero, alla presenza del figlio dell'ex parlamentare, ha celebrato l'ex coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, con l'intitolazione della sezione di Via Minuziano alla sua memoria. Grande amico, dal punto di vista personale, familiare, di lunghissima data. Non saprei dire quando ho conosciuto Franco Di Giuseppe, quando ero ragazzino, da una parte. Dall'altra, politicamente, ho avuto modo con lui di poter lavorare e collaborare. Ci manca perché ci manca il suo entusiasmo, la sua esperienza, però al tempo stesso, come in ogni caso, in circostanze come queste, è bene ricordarlo. È una presenza che continua, c'è l'amarezza, la nostalgia della sua assenza, ma c'è anche l'idea di proseguire un impegno politico che anche su queste caratteristiche può trovare delle motivazioni giuste. È partita la somministrazione del vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni e per l'occasione nella palestra della Scuola Santa Chiara di Foggia si è svolto un evento speciale. I docenti, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'AS di Foggia, hanno organizzato un laboratorio ad hoc nella biblioteca e inoltre ai nuovi vaccinati è stato regalato uno zenetto con una sorpresa. Gli operatori sanitari sono stati affiancati da un gruppo di docenti e di collaboratori scolastici che hanno accolto i bambini nei locali della palestra per la vaccinazione e nei tempi di attesa e di sosta post-vaccino anti-Covid nel laboratorio della biblioteca ad hoc nella palestra con l'intento di assicurare spazi e attività di rilassamento con l'aiuto di libri illustrati e accuratamente scelti all'interno del vasto patrimonio editoriale per l'infanzia utilizzato dalla scuola. I bambini sono stati così aiutati a superare l'ansia e la paura attraverso le grandi risorse che la letteratura e l'illustrazione mettono a disposizione un modo importante per dire no al Covid-19. Siete qui con i vostri figli? Sì. Ovviamente è una cosa giusta questa dei vaccini per i più piccoli? Certamente, vaccinarsi è fondamentale per uscire da questa pandemia lo dobbiamo fare tutti, è fondamentale. Avete paura ancora del Covid? Certamente, il Covid uccide, è una malattia importante, è una pandemia e quindi abbiamo paura, certo per questo ci vacciniamo. per uscire da questa situazione e ne usciamo tutti insieme, facendolo tutti. Bisogna farlo, bisogna avere fiducia nella medicina e soprattutto penso che sia un atto di responsabilità e di rispetto per la comunità, per tutti. Dobbiamo uscirne, abbiamo già avuto tanta sofferenza ed è necessario con il vaccino uscire da questa pandemia. Vaccinare i più piccoli è giusto? Certo che è giusto, abbiamo avuto noi questa opportunità, quindi adesso tocca a loro e la dobbiamo cogliere. È una fortuna poterlo fare. Lei conosce i genitori che non hanno ancora vaccinato i più piccoli, lo consiglierebbe? La maggior parte dei genitori non sta vaccinando i più piccoli e stanno aspettando e allora sì, certo che lo consiglierei. Ho chiamato il mio pediatra che mi ha detto il vaccino si deve fare e quindi io a mia volta sì, lo consiglierei, assolutamente. Ne usciamo dal Covid? Speriamo, ce l'auguriamo. L'unico modo che ci dicono sia quello giusto per uscirne è il vaccino. Ha fatto la terza dose? Ha fatto la prenotata, non ancora. I bambini vaccinati è una cosa giusta? I bambini vaccinati speriamo che sia la cosa giusta per loro per uscire finalmente anche loro a recuperare un po' di quella vita normale che avevamo prima, visto che per loro questi due anni sono pesati ancora di più proprio perché sono bambini. A chi non ha fatto ancora il vaccino cosa dice? A chi non ha fatto ancora il vaccino dico di pensarci, di farlo perché da quello che sappiamo noi è l'unico modo per uscirne. Come giudica l'iniziativa della Santa Chiara Pasqua dei suoi vaccini ai più piccoli? Giusta, giustissima. Sono stato molto entusiasta di questa scelta dell'istituto perché ritengo sia seriamente importante far vaccinare anche i bambini soprattutto per dare quella sorta di immunità, di greggio e anche di più a chi non potrà vaccinarsi per problematiche personali. Quindi ottima, ottima, ottima. I bimbi che dicono? Mia figlia è felicissima di farlo. Anzi, non ha appena saputo che poteva usufruire anche lei del vaccino per il Covid. Se la guardi in giro adesso, se fosse possibile, salta come un coniglio, è contenta di farlo. Noi non siamo contrari, quindi lei era d'accordo con la sua scelta. Noi va benissimo, quindi si procede. La terza dose lei? No, non ancora, però è in programma anche quella sicuramente. Si può fare. Recitava così lo striscione delle donne dei runners Parco San Felice, l'associazione foggiana protagonista di uno speciale flash mob che si svolgerà lunedì per le vie del centro di Foggia e porterà un messaggio di positività all'intera comunità. Stamane le prove generali nell'area dell'anfiteatro di Parco Città in vista di un appuntamento che assume un significato importante, soprattutto in questo periodo. Un modo per dimostrare che anche nelle migliaia difficoltà di questi anni legati al Covid si può comunque riuscire ad incontrarsi e portare a termine un'attività che renda più sereni anche in vista del Natale. Unire le persone in maniera semplice e importante, insomma, si può. Praticamente noi faremo un flash mob a Piazza Mercato è un flash mob sul corso che noi abbiamo fatto durante questo periodo che si chiama Runners in Musica. È organizzata dalla nostra associazione ASD Runners Parco San Felice e il flash mob ha questo significato. Noi, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto durante quest'anno dovuti alla pandemia, alle varie chiusure, eccetera, siamo riusciti sempre all'aperto ad incontrarci e poter svolgere un'attività ludica, chiamiamola ludica, che è servita sia per fare movimento, ma anche per socializzare, sempre rispettando tutte le regole. E con questo flash mob noi vogliamo dire questo, che si può fare, anche nelle tante difficoltà si può fare, mantenendo sempre e salvaguardando la nostra salute, sia mentale che fisica.